L'Amen Scuola Basket Arezzo torna mercoledì 10 marzo alle 21 a giocare al Palace Portestra dopo un anno di assenza e curiosamente si trova di fronte lo stesso avversario con cui aveva disputato l'ultima partita davanti al pubblico amico, la CEA Virtus Siena. Nel marzo 2020 gli Amaranto si imposero al termine di una gara molto combattuta che fece purtroppo registrare il grave infortunio alla guardia della SBA Santiago Rodriguez. Il nuovo campionato vede adesso per il momento la compagine senese in testa alla classifica a punteggio pieno con due successi di misura contro le due valdarnesi Fides Montevarchi e Synergy Valdarno. L'Amen da parte sua è alla ricerca del primo successo avendo giocato una sola partita ed avendo affrontato il turno di riposo nella prima giornata di campionato. La sconfitta al supplementare con la legnaia ha generato così tanta voglia di riscatto nel quintetto di Coach Millie, voglia che dovrà essere riversata sul parquet contro un avversario solido e di qualità lanciato verso il passaggio a play-off. Come da disposizioni della Federazione Italiana Pallacanestro la gara si disputerà al Palace Portestra a porte chiuse ma per tutti gli appassionati Amaranto sarà comunque possibile seguire integralmente l'incontro in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook e su quella della Scuola Basket Arezzo.